Teledurruti, Praga, stavo pensando a due cose, un filmato degli anni 40 su Praga durante l'occupazione tedesca da parte dei nazisti, quando questo signore, Heydrich, era il vice protettore di Bohemia e Moravia e i partigiani lo hanno giustamente assassinato il 4 giugno del 1942 in un attentato, vediamo se ci sono le foto dell'attentato, che mostrano l'auto, ecco, questa è l'auto, hanno giustamente assassinato questo assassino, ma dicevo appunto che in questo video, in questo filmato, si vede Ponte Carlo, si vede Praga, è uno scrittore, non ricordo chi, non vorrei fosse Kundera, commenta di com'era dolce Praga nei giorni dell'occupazione tedesca, forse perché erano gli anni della sua infanzia e adesso sono a Praga, riflettevo su questo. Teledurruti.